Buonasera, domenica 1 settembre alle ore 21 su Noi TV, va in onda una nuova puntata di Viver Lucense condotta da Giulio del Fiorentino. Entreremo con le nostre telecamere nelle stanze dei terzieri lucchesi di San Paolino, che comprende alcune contrade della città murata e saranno proprio loro i componenti delle contrade a portarci per mano nel viaggio alla conoscenza delle loro attività che abbracciano la storia della città, ma anche la vocazione agonistica, visto l'alto livello dei tiratori con la balestra da banco in grado di colpire una moneta da 2 euro a 36 metri di distanza. Vedete queste belle immagini, vi ricordo l'appuntamento con Viver Lucense domani sera su Noi TV alle ore 21.